eccoci qui ragazzi ben ritrovati buonasera allora appena terminata roma dinamo chiev la roma batte la squadra ucaira 1 a 0 coglie la prima vittoria in questa europa league grazie al gol sul calcio di rigore di dobbic procurato da baldanzi e prende un po di respiro in classifica allora allora che dire ragazzi non ci siamo stasera forse qualche leggero miglioramento nell'atteggiamento della squadra c'è stato sicuramente però purtroppo siamo sempre vittime dei soliti delle soliti problemi di questa squadra intanto vorrei capire perché un messo non ha giocato neanche questa sera insomma lo davano per certo in campo doveva già esordire nelle settimane scorse io non capisco se questo giocatore ha qualche problema fisico o meno però insomma tutta la partita in panchina oggi che doveva giocare non lo so raga a sto punto rimane rimane il dubbio che effettivamente sto giocatore non sia ancora pronto fisicamente l'unica cosa che mi viene in mente iurice che ha rivoluzionato un po la squadra e sinceramente le scelte fatte non è che mi hanno convinto più di tanto però purtroppo comunque stasera mancavano mancini e sulle che erano avevano stato febbrile più e sciaraui sa le maghezze infortunati e comunque è stata messa in campo una squadra inedina no perché se lì che è stato messo sul lato destro nella linea 3 difensiva insieme a indica e ermoso con svillare in porta zaleschi è stato spostato alto a destra con anghelinio alto a sinistra in mezzo al campo c'è stata questa famosa esperimento di le fe con con e che penso non verrà più riproposto e poi dobbic e pisilli che è stato spostato sulla tre quarti con l'unica punta dobbic e che dire ragazzi la squadra ha un atteggiamento sicuramente diverso dalle altre partite perché comunque per tutto l'incontro hanno pressato pressavano alti andavano sempre sui giocatori cercavano anticipo e entravano un po più decisi si muovevano sicuramente di più delle altre partite però ragazzi alla fine i soliti problemi che che ti hanno contraddistinto in questo inizio di stagione sono si sono si ripresentano comunque perché comunque tu la prima mezz'ora fai tanto possesso palla ma non ti rimai in porta gioco offensivo zero se non c'è baldanzi che se inventa qua giocata e quel difensore ucraino fa per farlo stupido da rigore probabilmente sta partita finisce 0 a 0 e quindi non non va bene non va bene per niente cadiamo sempre nei soliti problemi di fare errori clamorosi come quello delle fe che manda in porta gli ucraini e solo per per fortuna non pareggiano le fe ragazzi che secondo me è un giocatore che non non ho capito l'acquisto delle fe è un giocatore che secondo me non può far titolare fa il suo compitino senza strafare ma è un giocatore che non te dà niente in mezzo al campo raga non te dà proprio nulla né velocità né dinamicità né verticalizzazioni né tiro in porta né copertura c'è un giocatore che sta lì smista la palla raga io mi dispiace dirlo ma lo trovo lo sto trovando sempre e comunque un acquisto inutile ne ripeto secondo me giocherà ben poco quest'anno e soprattutto dopo quell'errore la dinamokip ha preso un po più di coraggio noi siamo un po intimoriti e gli ultimi dieci minuti del primo tempo comunque la dinamokip è venuta un po fuori c'è stata quella parata di svillare quel gollo del pareggio fortunatamente in fuori gioco e i soliti cliché e problemi di tutta la stagione tanto possesso palla poca concretezza sotto porta non tiriamo in porta gioco offensivo minimo e la dinamokip quando veniva invece avanti creava sempre un po di pericolo e dà prensione e questo sono i soliti problemi insomma che abbiamo avuto anche nelle partite precedenti nel secondo tempo poi il la partita è rimasta pressoché la stessa con la dinamokip tutta roccata chiaro che cercava di ripartire in contropiede sono entrato nel secondo tempo poi i cosiddetti senatori vale a dire cristante pellegrini di bala e poi entrato show muro dove per dar un po di fiato a ad obbic ma la partita non è cambiata è rimasta pressoché la stessa grande possesso palla sterile giusto un paio di pericoli creati con quel tiro che è uscito di poco di show muro dove poi vabbè raga quell'azione del go che siamo magnate sta l'azione è bellissima ma questo deve far capire quanto la roma abbia giocatori inadeguati nella rosa perché comunque show muro dove non si può mangiare quel gol show muro dove che è un bravissimo ragazzo è uno professionista serio che si allena sempre accettato qualsiasi destinazione però se vede che un giocatore ragazzi io non capisco come pinto tre anni fa ci abbia speso 18 milioni di euro per questo poi ci stiamo qui a chiede perché sta squadra non va in champions league perché se tu nel secondo tempo vedi gente in campo come zaleschi come celic come cristante come pellegrini come show muro dopo te rendi conto che veramente sta squadra è stata costruita male a delle lacune evidenti in certi in certi reparti come la difesa dove giocano sempre gli stessi e le fasce e dove a centrocampo purtroppo a parte con e che è l'unico giocatore che a me piace che gioca bene tutte le partite anche oggi è stato uno dei migliori in campo secondo me il migliore è stato baldanzi baldanzi ragazzi che quest'anno si vede che in palla si vede che in forma è l'unico che prende la palla che cerca di saltare l'uomo che cerca di proposte che cerca di tirare in porta di prende iniziative cioè baldanzi quest'anno secondo me è un delitto che non gioca titolare e che deve far posto a un pellegrini che pure stasera ha dato il meglio di sé quando è entrato perché è punizione la solita punizione di ticola dei pellegrini il solito di non porta smosciato centrale io rimango allibito a vedere certe situazioni certe situazioni certe situazioni cristante che sta lì in mezzo al campo e trotta come al solito zaleschi che fa sempre gioco il solito gioco ritivolo deve venire avanti e poi torna indietro e passa la palla indietro come faceva il buon vecchio castro la difesa che comunque concede poco ma continua a far minchiate ogni tanto a perdese l'uomo svillare che pure stasera fa un'uscita a voto non indifferente che ci poteva costare il pareggio di bala che continua a fare il suo solo il solito gioco deve venire arretrato in una tre quarti nostra per cercare di avere un pallone giocabile raga c'è tanto da soffrire quest'anno perché sta squadra ripeto poi ulteriore cosa il gioco degli uricce coste 3 4 2 1 3 5 2 non valorizza i giocatori che ci abbiamo e quindi facciamo fatica a sfruttare anche i giocatori più forti tipo di bala tipo baldanzi tipo sulle c'è tanto da lavorare c'è 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 poco da essere insomma entusiasti anche questa sera anche se è qualche cosa di positivo ripeto l'abbiamo visto perché comunque l'atteggiamento della squadra è stato un atteggiamento diverso ho visto una squadra che comunque pressava che andava a pressare alto gli avversari che faceva pressing che cercava di recuperare il pallone che cercava di essere feroce nei contrasti che cercava comunque di muoversi di più in mezzo al campo non abbiamo preso gol e anche quella è una notizia insomma positiva abbiamo vinto anche se soffrendo è tanta notizia positiva però ragazzi la lazio a questi che ha fatto tre gol in trasferta spasso e noi comunque abbiamo sempre il solito problema che se mangiamo i coda avanti alla porta che facciamo errori clamorosi come quello delle fe e di mantenere in partita una squadra che obiettivamente ragazzi a parte una gran buona volontà e essere forte fisicamente era ben poca cosa era ben poca cosa e io vedo poca qualità in questa squadra poca concretezza soliti problemi cronici e questa sera ripeto se quello non si mangia le cose del pareggio o se baldanzi non si guadagna un rigore staremo a parlare in un'altra partita o scena non è stata così per carità di dio però è una squadra che costruisce poco che quando subisce attacchi avversari rischia sempre le prende co ci ha gravi squilibri tattici ci ha gravi lacune in determinati ruoli e stiamo sempre qui a fare i stessi discorsi ragazzi io purtroppo rimango pessimista ma rimango comunque fiducioso nel sperare che le cose possano cambiare in positivo in futuro adesso ci aspetta la trasferta di Firenze che sarà una trasferta difficilissima e complicata vorrei aspettarmi una gran bella partita della Roma io rimango comunque fiducioso che possa esserci notizia dell'ultima ora Mancini è stato esonerato dall'allenatore della rabbia saudita quindi non vorrei che magari se Juric dovesse magari toppare Firenze con una brutta partita i fritti non gli venga lo schiribizzo magari devi suonerarlo e ti prende Mancini speriamo te no perché questi sono capaci di tutto anche se Mancini prende in botto di ingaggio quindi non credo che possa accadere sta cosa però ragazzi che vedevo di godemose staserata almeno che è una serata serena perché comunque abbiamo vinto non abbiamo subito go abbiamo visto una squadra con dei leggeri miglioramenti proprio impercettibili che però ha manifestato sempre gli stessi stessi problemi cerchiamo ragazzi rimane positivi di continuare a tifare e di essere insomma guardare alla trasferta di Firenze non con rassegnazione ma con speranza ecco raga buonasera a tutti voi iscrivetevi al canale se già non l'avete fatto mi fate un grande favore like commentate come sempre notte serena a tutti voi tifosi giallorossi e sempre Forza Roma